Salve gente e benvenuti sul canale YouTube MaxCalifornia86. Da oggi ho deciso di inaugurare una nuova rubrica a tema horror dal titolo Horror Max Stories, riprendendo il titolo di una celebre serie arrivata alla decima stagione. Ho deciso di iniziare con un video su The Nest di Roberto DeFeo. Comunque ve ne parlo dopo la sigla. The Nest, esordio alla regia di Roberto DeFeo, è un horror gotico autoriale. La location è Villa dei Laghi, una villa che si trova nelle campagne piemontesi. Il protagonista è Samuel, un ragazzo che è costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente stradale nel quale ha perso la vita il padre. La madre Elena gli impartisce un'educazione severa, tenendolo lontano dai pericoli del mondo. Al suo servizio, oltre alla servitù, c'è anche un medico che fa esperimenti sulle persone. Diciamo subito che Roberto DeFeo, per The Nest, si ispira a The Others con Nicole Kidman e nelle atmosfere il suo film ricorda quelli di Bava e Argento, due grandi regissi dell'horror italiano. The Nest è un horror dal respiro internazionale, un gotico autoriale più inglese e americano che italiano. Il cast è di tutto rispetto, quanto troviamo Francesca Cavallini nei panni della madre di Samuel e Maurizio Lombardi in quelli del medico. Quest'ultimo è diventato noto al grande pubblico, soprattutto per alcune serie tv come 1992, 1993 e 1994 e The Young Pop e The New Pop di Paolo Sorrentino, personaggio di Denise che entra a un certo punto nella storia e con la quale il protagonista si apre un po' di più. Lei gli fa scoprire qualcosa del mondo esterno, lui gli fa scoprire qualcosa del suo mondo. In questo film vediamo che ci sono alcuni oggetti del passato come ad esempio questo telefono attaccato alla presa di corrente mentre l'unico oggetto della modernità sembra essere questo autore MP3 con il quale Denise ascolta la musica e che cede per un breve periodo a Samuel, quindi non sappiamo bene in che periodo si colloca questa pellicola perché come ho detto in precedenza troviamo alcuni elementi del passato, altri di modernità. Possiamo dire che con The Nest il cinema italiano torna al cinema di genere che ci ha visto grandi maestri negli anni 70 e 80 con i vari Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci quindi speriamo che anche altri autori possano seguire l'esempio di Roberto De Feo. Diciamo che oltre agli autori ci deve essere anche un po' di coraggio da parte delle produzioni nel decidere di scegliere questi progetti facendo qualcosa di diverso dalle solite commedie o drammi che si sono visti negli ultimi vent'anni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube MaxCalifornia86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se questo video vi è piaciuto o no se apprezzate l'idea di questa nuova rubrica se volete suggerirmi qualche film da vedere e farci un video e quali video volete vedere nelle prossime settimane qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. In descrizione trovate i link dei miei social Instagram, Facebook e Twitter nei quali potete trovare notizie sui video che pubblicherò sul mio canale YouTube MaxCalifornia86. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube MaxCalifornia86.